I'm gonna love you Finocchi Allora oggi che si ragiona? Ultimamente c'è questa cosa veramente di Instagram Che delle volte Dio madonna questa gente sta a male C'è un malessere Io non capisco veramente sta gente Che ti segue per la speranza Che te li risegui Poi e se quelli ti mettano 200 Mi piace in una volta Ma non ti seguono Come dire dai se mi segui poi io ti metto mi piace Cioè tutti sti ossi Io veramente ma no se guarda Allora mi fa fatica fargli screenshot Tutti ciò voglio Non voglio che si sappia chi è Sono anche personaggi con gli intorni Anche gente The contest via lo voglio dire Voglio essere almeno questa cosa la Dio Qualche personaggio che ha fatto il contest con noi Di Firenze Suona E solo perché si faceva il contest insieme Praticamente mi seguivano su Instagram Io non li riseguivo Ma non perché sono una merda Dopo un paio di giorni Perché lo vedi che le ultime persone che ti seguono su Instagram Quando vai a vedere i follower Sono proprio i primi profili che vedi Quindi uno se ne accorge Non è che io ho sta valanga di follower ai giorni Quindi me ne accorgo E quindi nulla Vedi sta gente che ti segue Sperando di essere riseguiti Ma io non la fo Perché sinceramente non capisco Cioè se ti interessa quello che faccio Le cazzate che metto La musica è fo Se ti interessa Se ti piace Tu mi segui Se non te ne frega un cazzo Perché mi devi seguire Tra roba da ragazzini Non lo so Eppure c'è anche gente Ho visto insomma Di una certa età Cioè non di 40 anni Però neanche di 15 anni Cioè voglio dire Nell'età in cui uno Ste cazzate in teoria Uno le dovrebbe fare Vabbè Poi c'è anche quelli pesi Che proprio ti mandano messaggi In privato Ha visto il tuo commento Sotto il post di questo qui Anche a te piace questa musica Eh sì Ma fa' la c***a E poi alla fine Praticamente ti dice Sì anche noi facciamo Facciamo su una sigla Anche noi facciamo Jets albanese Seguisci Ma addio maia Ti tenga lì A messaggiare Già lì all'inizio Tu parli a una persona Che non conosce Di queste cose E già Dici ma questo che cazzo vuole E già lì Insomma dopo Dopo che ti tengono Un pochino a ragionare Di queste cazzate E poi alla fine Ti diano Anche noi facciamo Questo genere Seguisci Ma vaffan Mi portano a sé Delle tue c***a E questo gli è un altro Poi c'è Ci sono quelli Che non ti seguono Vengono apposta Sul tuo profilo E scorrono le tue foto Mettono mi piace A tutte le foto A caso così Per far vedere Per farti vedere La notifica Che sempre Quel profilo Ti ha messo Tutti quei miei piace In modo tale Che te Ti incuriosisci E vai a vedere Che c***o fa Questo qui Per seguirlo Anche sta gente Di ho Anche una sigla Fa Instagram Che alla fine È un social Secondo me Molto più meritocratio Di Facebook Perché c'è la pagina Facebook Che già Dal tuo profilo Personale Puoi dire Ai tuoi contatti Metti mi piace Alla pagina Come posso dire Amici di amici Che ti metta Mi piace E via Invece su Instagram Non le puoi fare Queste cose Un profilo Che non ho mai visto Che non mi segue Neanche Però mi ha messo Il commento Con il cuoricino Vai a vedere E praticamente È una Etichetta discografica Che fa della musica Che con me Non c'entra un c***o E alla prima Dici vabbè Boh Chi se ne frega Poi dopo un po' Passa un par di giorni Boom Rimettano Rimettano Un altro commento Sempre sul solito video Sul solito post E quindi vai a vedere C'è due commenti Sempre di questo cretino Qui che Non si apisce Per Cioè Non si apisce Si apisce Si apisce perché uno Vuol rompere le palle Questa persona Vuole per forza E te tu vada A vedere il suo profilo Che poi alla fine Lo vai a vedere Per curiosità Per forza Sperando che appunto Te tu li risegua Non contento Dopo un po' Di giorni Boom Mi rifà un altro Commento Sotto un post Nonostante Questo profilo Non mi segua Allora io dico Ma questo Non ha una segala a fare Cioè Io bo Cioè il bello di Instagram È che Che c***o Che se te Ti interessa veramente Segui qualcosa Segui qualcuno Segui un gruppo musicale Lo segui perché Ti interessa veramente Non perché Ti ha invitato A mettere mi piace O tutte ste c***ate qui Quindi questi Questi casini Che buffate Fai a ridere Mi sembrai Sei proprio disperati E poi tra l'altro Tralasciando il fatto Che poi quando uno Ti segue in questa maniera qui Naturalmente poi I tuoi post Non li caga Cioè ti rendi conto Io per avere un numerino In più Sotto la scritta Followers Cioè devo fare tutto sto casino Mamma Vaffanculo E vabbè nulla Che devo dire Basta C'è Cioè 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 Grazie a tutti